Hey yo what's good everyone ricomincia il double trouble mamma mia mamma mia mamma mia qui ci spacchiamo di brutto raga non vi preoccupate Rage Against the Beat lo faccio più tardi che non iniziate a scrivermi ah non fai più l'altro devi far per forza questo no facciamo tutti e due non vi preoccupate oggi reagiamo alla presentazione delle coppie poi facciamo tutte le battle dai non ci avrei creduto tu ci avresti creduto perché però mi strada ancora frate non ci avrei creduto ci avrei creduto ragazzi se siete pronti per questa serata per i nostri ospiti voglio un po' di casino al 3 1 2 Dove sono sempre l'Hiroshima qua? I primi due che voglio sul palco dell'Hiroshima accolti da un po' di casino sono Retrub e Chiasmo! Retrub e Chiasmo mi piace come accoppiata eh questi quando arrivano assieme raga dovete dovete nascondere le fidanzate eh perché sennò sennò fanno disastri questi due assieme eh attenti attenzione così bassi il volume come sono io Oddio mi ha sproppo avrà uno strofone e anche ogni身 fritti sembra una canzone alla double traboli il campione in carica è infernet quello che carica il campione ci hanno chiamato ospiti ma Torino io ci vengo sempre a fare arte ci hanno chiamato ospiti però quest'anno io ho visto più l'Hiroshima che mia madre Hiroshima che mia madre, grazie, troppo grossi suoni dalle casse ho pagato più iscrizioni a Hiroshima e quest'anno che all'università tasse vivo a Bologna, sono a Torino, quanto ho visto dal mare, ho visto più Hiroshima che mia madre però Hiroshima mi ha già visto spaccare e Bologna sotto i vortici, la street life, siamo per la strada e fumiamo grand lives wow sì live bella strada mentre tu sei online tutti qualche cazzo ci fumiamo grand lives io sono pugliese e che cazzo fai perché non ci stanno i portici in Puglia no, forse portici non ci sono in Puglia, sono a Napoli, vero, in zona di Napoli portici Paride e Kang Paride e Kang, ok ci siamo, ci siamo ragazzi che cazzo fai 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 cosa fai che cazzo fai Vi sorprenderà, vi sorprenderà davvero. Ma ci manda un cazzo di beat per mio fratello Lexone insieme a Secco Baby. No no, bella reina con me. Secco Baby. Su, su, su. Ah ah. Bella Secco. Oh, oh. E tre. E tre. Io sono secco, prima cosa. Lassi o merda è sempre Forza Roma. Io non voglio vincere sui euro. Non mi accontento soltanto del pagino del McDonald's. Pure io. Mi piace qua uno di Bala, quando rappoglio la gente dopo si imbara. No no, sto. Ho venuto a piangere, non ricordatemi che di Bala sta la Roma, dai. Oh mio Dio. Lo voglio indietro, lo voglio indietro. Ridatecelo indietro, dai, ridatecelo indietro di Bala. Basta, basta. Bevo così tanto che se stasera una guardia a me se beve se embriaca. Beh, c'è la squadra che scappa. Beh, ci guardi. Se ti spacca pari i costri. Ci arrivo alla porta senza l'ansia che si spagli. È sempre preciso di qualsina vincono. Questi non credo, è ridicolo il fatto che il pacco non passo di certo quanto svinggono. C'ho l'occhio. Voglio vedere oggi che mi dicono. Forza Dias, adesso che ti manda via. Perché certo questo lo scopo si saprà dato che Fratellio l'ho troppo nell'aria. Diciamo per intesa e per gioco di squadra Ci si sa come coppia Una coppia strana ma spacca assieme secondo me Oh mio Dio Mamma mia Mamma mia problemone Sì Sì Oh Ok Mamma mia Vogliamo goderci adesso Vlad e Keyes Vlad e Keyes Grazie mille Grazie mille Slavo. Ok, ok. Mi piace che non hanno fatto nessuna coppia ovvia, perché Kuta di solito è sempre con FC9, poi gli altri Chiasmo di solito è con Summon Skunk, tanti sicuramente mancheranno, però le accoppiate non sono troppo ovvie, questa è una cosa che mi piace. Tutti i tuoi mani danzano al cielo. Ho 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 Un, due, uno, tempo. Come Debit. Perché blocca blocca? Tutti sanno che io ce ne ho troppo attrofa. Io scommetto sulla mia foto, metto le palle giù il tavolo e nel cazzo in bocca. Eravamo in venti al parchezzo, a Gianni Roshima quasi 800, questo è il sogno e lo stiamo vivendo, fateci un casino perché tanto non mi sveglio! Avevo preso esempio da tutti quanti dreamer gli altri obcecherono, noi tra gli altri siamo riusciti a salvarci, stasera ha salvato pure il suo meccato! Mi aveva sempre stato l'algonismo, mi aveva quasi sconfitto, lui mi ha preso e mi ha portato nell'oblio, vinto quella merda che oggi ho vinto io! Avevo un proprio edore! Ma come? Eri ubriaco, eri ubriaco marcio al Rage Agassbeat, giusto? Ma che stai a dire? No no, spero di sì, spero di sì, però vabbè! Tu vorrei aver letto ogni tanto ci sta, ci sta, ci sta, l'importante è non esagerare troppo eh! Per questo motivo ho aiutato il mio vlogger, conoscendo me, ha lasciato l'alcol ed è diventato ricchione! Ma può essere, ti asso con le tessere, posso sempre tessere, non ci siamo lasciati, è una relazione complicata, è il mio male essere! Grazie raga, avete spacciato, bravissimo! In una relazione complicata! Una relazione aperta! Eh vedi, vedi, ci sta pure Simon Skunk, è strano che non sia con chiasmo eh! Però Dono, ammazza! Ed è un casino che non vedevamo più Donigno eh! Mamma mia che figata! Porca droia! Un po' una marina su! Un po' una marina su! bottle su! Sandro fai il loro! e marivando su con noi! E marivando su con noi! Vando su con noi! Ye 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 ye! Questa è merda classic! non ha nuovi flussi, vedo rosa non è maccatussi, è la sua pussy 5 kg a casa dei buffi, non compro droga buffi io e Simon siamo la una delle coppie autistiche fino a quando tiriamo fuori il fissile abbiamo il talento di Diego Armando per le questioni extracalcistiche il nome è Simon Skunk non sono mica fake fumo crack con Nilo Mack abbiamo lo Stargate ma quale lo Stargate non l'hai capito fratellino che c'è qui tonito ci ho messo più tempo ad arrivare che i Club Dogo a fare un nuovo disco hai capito? il disco dei Club Dogo è la sfida questa sera proprio ora perché non mi battono una volta sola citazione d'alto livello mamma mia sono casato raga sono casato mamma mia mamma mia non è che non mi battono? non è che era quello dell'anno scorso no? era l'end of days che vinsono no? mi hanno fatto casare tutti mi hanno fatto casare tutti su 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 fate vedere quanto siete belli su 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 no forse aspetta aspetta, forse era Kanye Debit no, oddio non mi ricordo più oddio c'è vuoti di memoria raga scusate ahahahah mmm Non ti preoccupare Omi, ne faccio io un'altra lui, capito? Dopo andiamo fuori, oh DJ me la fai un buco! Così ci invertiamo i ruoli! E quindi muore! Avete visto il fatto di connessione? Questo è un sogno, lo regaliamo alle persone! Ma non si sentiamo ombro! Eh, muovei, eravate invertiti i ruoli, la voce non c'era più dopo che l'ha presa tutta Kine! E nulla, dai cazzo, sono stragasato raga, domani iniziamo a reagire alle battle vere, mamma mia si accoppiate, sono una follia, si prospetta un contest della madonna! Ci vediamo più tardi per il Rage Against B, la grande semifinale! Bella!